Come sempre ragazzi vi ricordo di passare dal link in descrizione se avete bisogno di crediti per tutte le console Mi raccomando FIFA Coin, link in descrizione, utilizzate anche il codice coupon DAV per avere uno sconto del 5% Partiamo col video, buona visione Benvenuti ragazzi, sono DAV e benvenuti in questo nuovo video Ragazzuoli, siamo ritornati nuovamente su FIFA Ultimate Team Oggi ragazzi andremo ad aprire qualche pacchetto Perché come sapete hanno inserito una settimana fa i pacchetti speciali per ogni Lega praticamente C'è l'aggiornamento classico diciamo della Premier e anche quello Premium in cui bisogna utilizzare giocatori rari Poi lo hanno fatto per ogni campionato Oggi ragazzi siccome questo Team of the Week che state vedendo è pienissimo di gente forte Ma soprattutto della Premier League come potete vedere abbiamo Ederson 85 ragazzi Sto giocatore è assurdo, veramente fortissimo Poi abbiamo Lovrain che comunque non è male Pogba 89, Dele Alli 86, Lingard 82 Poi Firmino 86 insieme a Arnautovic a comandare il reparto offensivo E poi a sinistra abbiamo Sanchez In panchina in realtà non c'è niente di che a parte qualche piccolo giocatore C'è il schierdo, vabbè ma sì vabbè comunque c'è poca roba Diciamo che quelli titolari sono quelli che naturalmente ci interessano molto di più Questi sono i pacchetti che a disposizione Per il momento ne ho 7, ne andrò a fare 10 Quindi gli altri 3 con i giocatori che trovo all'interno di questi Poi andrò a farli e inserirli appunto nelle SBC relative agli aggiornamenti della Barclays Questi sono un misto, alcuni sono Premium Altri sono Premium, come si chiamano? Oro Premium, altri invece giocatori Premium Quindi vediamo ragazzi, incrociamo le dita Speriamo bene, dai anche soltanto un if oggi veramente mi farebbe stracomodo Anche un Lingard non è male Vai andiamo ragazzi Ok primo pack, questi sono i pacchetti Euro Premium Ci teniamo i giocatori per la fine Partiamo con il primo, qua dobbiamo sperarne le bandiere ragazzi Cioè qua non ci sono storie Solo ed esclusivamente bandiere Vediamo il primo, eccolo là Ma figaro Ma perché me la mando io? Chi è? Inglese ATT Starridge Vabbè 82 Vabbè dai Danielino magari per qualche sfida può sempre servire Ragazzi andiamo con il secondo Pacchetto Oro Premium Ma anche in questo caso Quelli i migliori Cioè ci siamo tenuti alla fine Vediamo se qua c'è la luce No ma neanche qua Vabbè regà Però ci sono due giocatori rari Anche un Gabriel Jesus e un Marsal Che comunque No niente Scherzavo Carnesius 82 Però gli 82 me li sta dando Mi stavo appunto dicendo che i Gabriel Jesus e un Marsal Non sono bandiere Quindi in realtà anche loro Se non dovessi trovare la luce Vediamo Eh neanche sto giro Vabbè dai Potrei trovare loro Vediamo se magari Niente Niente ADC Chi è? Smalling Vabbè Non male Smalling Strabaggato Non è male Dai regà Proseguiamo Quanti ne abbiamo? Ancora 4 Poi andiamo a farci gli altri 3 che avevo promesso prima Dai Vediamo se questo è buono Attenzione Neanche qua Vabbè regà Ma allora veramente mi prendete in giro eh Non c'è niente Chi è? Spagnolo CDC Ma chi è sto qua? Iborra Figaro Beh in questa abbiamo naturalmente molto più possibilità Visto che sono tutti giocatori Vediamo questo Dai almeno una luce in sti 3 Ma vero? Dai regà 3 ma da Gioratori rari Ma non puoi Dai Chi è? Zobaleta Ma fischia Dai Niente ancora nessuna luce Mi sta facendo incazzare come una bestia Dai ragazzi Niente Niente 10 pack Manco una luce 7 per il momento ancora Vediamo l'ultimo Se il settimo è buono Chi m'ha dato adesso? M'ha dato Eton Ci sono 3000 giocatori della Premier Isto benedetto team of the week Dammi ne uno Uh Neanche luce Dai Scherziamo questa volta Non è possibile 7 pacchetti Manca una luce Irlander Coleman Un botto di 82 Ma non me ne faccio niente Vabbè dai Ho fatto ancora Questi 3 pack Hanno fatti 2 giocatori Invece uno normale Partiamo da quello normale Ragazzi Non so che di I 7 di prima Hanno fatto completamente schifo Almeno una benedetta luce Oddio me l'ha data Incredibile Vediamo se if Si Si E if Chi è? L'inglese C.O.C.? Lingard L'ho chiamato Jesse Lingard Sì E andiamo col primo Dai Vai il primo C'ho ancora due pacchetti Jesse Lingard E andiamo Però Inglese Che poteva darmi Anche Dele Alli Poteva darmi O no Uff Dai La prima C'è in un pacchetto Da Quello Normale Neanche il premium Vediamo se in questi due Vabbè Ecco basta Finita la magia Dei pacchetti Ma è assurdo Vediamo l'ultimo ragazzi Giocatori Premium PL Vai Premier League Su L'ultima Concludiamo in bellezza Ti prego Niente No No dai Non ci sto così però Oh chi è? Abbiamo trovato solo l'ingard L'unica luce Unico if E di Chi è? Chamberlain No Non va bene così Ma ne devo fare almeno altri due Ok dai Andiamo a fare L'ultimo ragazzi Andiamo con quelli normali Vai Partiamo Vai buttiamo via tutti questi No anche perché Cioè veramente L'unico pacchetto che ho trovato Ho mandato l'ingard Su Dai 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 che è andato Veloce Schippa Schippa Facciamo l'ultimo Vai Conferma Cioè non è possibile che veramente Che in dieci pack Non mi ha dato niente Cioè è assurdo Dai Mendy Cavallero Completa Vai Su 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 ragazzi Vai L'ultimi due pacchetti Attenzione Andiamo nel negozio Vai ragazzi Andiamo col primo È andato Vediamo se è walk out Poi questo lo schifo Me ne frego il cavolo Attenzione Si Walk out Via Dai 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 Ti prego Davi un if Davi un if Davi un if Pogba Non ci credo Nel pack del cazzo Quello che non vale niente Come l'ingar No regà dovete fare quelli Dovete fare quelli Dovete fare Non quelli premium Che non servono un cazzo Pogba Paul Non è scambiabile però Fan culo Non ci sto credendo regà Non ci sto credendo regà Pogba Primo proprietario Peccato che non è scambiabile Vabbè però adesso Qua c'è anche L'ingar Non ci voglio credere Regà Pogba 89 di Ma che statistiche c'ha No vabbè Vabbè vi faccio vedere Che è il mio Ma non penso che serva Visto che vabbè Ve lo metto anche in attacco Ve lo rimetto No Ve lo rimetto lì Non ci sto credendo regà Vabbè vi faccio vedere anche il mio club Visto che magari qualcuno dice Non è vero Non è tuo Faccio vedere che qua ho fatto salà E il mio accanto Quello ho fatto salà Aspettate un attimo Questi sono tutti i premi Che avete già visto Vai 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 Dov'è Eccolo Il mio salà 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 Quello della sfida Del sbc che avete visto Non ci credo regà Porca di quella miseria Ragazzi A sto giro Ho veramente sculato Finalmente Dopo un bel po' di tempo Fatevi sapere cosa avete trovato voi In questi pacchetti Se l'avete fati Se l'avete fati Se anche voi avete trovato qualcosa Come me Non lo so Pogba Veramente tanta roba Cioè Sto ancora Tremando La fortuna che ho avuto Veramente ragazzi Io vi saluto Ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao